Basta vedere la classifica, per questo noi dobbiamo pensare a essere uomini, impegnarci senza guardare classifica o qualsiasi altra cosa, anche perché sappiamo tutti come è la situazione, quindi penso che la cosa più importante sia uscire da uomini, perché nella vita come nel calcio ci possono essere delle situazioni molto difficili, però uno in una situazione di difficoltà deve reagire sempre comunque da uomo.